Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà un nuovo sistema nuvoloso raggiungere le regioni centro-settentronali, pressione atmosferica in diminuzione sul Mediterraneo occidentale, il sud si salva dove ancora lì invece la pressione atmosferica resta relativamente alta. Controlliamo ora la nuvolosità prevista sull'Italia e bene o male, guardate, arrivano nuvole un po' ovunque. Al sud saranno un po' più sfrangiate, solo delle velature, invece al centro-nord nuvolosità più estese, più compatta e soprattutto nuvi che porteranno precipitazioni diffuse. Controlliamo infatti la previsione sulle piogge attese sull'Italia, partono dal mattino sull'Alto Tirreno con anche dei temporali, degli acquazioni di moderato forte intensità, ma queste piogge poi piano piano si estenderanno a tutta l'Italia centrale e verso pomeriggio sera coinvolto anche in nord. Quindi in definitiva ci attende una giornata di domenica più autunnale nelle regioni centro-settentronali con queste piogge che partono, dicevamo, dall'Alto Tirreno, arrivano a coinvolgere buona parte dell'Italia centrale e poi anche il nord. Rimane escluso invece il sud Italia dove sì ci sarà qualche nuvola malternata da ampie schiarite. Grande differenza anche nelle temperature, al centro-nord valori in diminuzione, al sud invece complice lo scirocco, clima molto mite. Con questo è tutto per i dettagli sulle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.